Gentili telespettatori, buona giornata. Un sondaggio riservato del Partito Democratico inerente allo stesso Partito Democratico, EIDEM, mostra una realtà diversa da quella che raccontano alcuni giornali e alcuni sondaggi. L'indiscrezione è di D'Agostino, responsabile e fondatore del sito da gospia molto ma molto accreditato nell'ambito politico perché ha delle informazioni assolutamente veritiere e di prima mano. Quindi per Enrico Letta non ci sono delle belle notizie. Il nuovo segretario del Partito Democratico che tutti i giorni dice qualcosa su Salvini e fa polemica con gli alleati di governo di centrodestra soprattutto e piace tanto ai giornaloni, ai salotti tv, ovviamente quelli che guardano verso sinistra, sembrerebbe che questo Enrico Letta, tanto osannato da giornaloni e tv compiacenti, non piaccia. Piaccia molto poco agli elettori di quel partito. Il cambiamento, il vento del cambiamento arriva Letta e il PD arrivava a chissà quale sondaggio dicevano i sondaggisti, no? 20 punti. In realtà, in realtà vi dico che il PD, secondo un sondaggio che vi ho letto ieri, oggi, no ieri, ieri, oggi, non mi ricordo, dava il PD al 16,5%, il livello più basso mai raggiunto da questo partito. 16,5% quindi quarto partito italiano dopo ovviamente lega Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle, quarto partito italiano. Ma Dagospia parla addirittura di problemi abbastanza sostenuti, rivelando il contenuto di questo sondaggio riservatissimo che fa e mostra che questo metodo Letta non piace a nessuno. Quindi il sondaggio dice questo, per il 65% degli elettori del PD lo YouSoli non è assolutamente una priorità. Beh, ci mancherebbe altro. Il 75% poi si domanda che necessità aveva Letta, peraltro, di postare un tweet a favore di Fedez. Molti si dicono, è quella foto con la scritta Open Arms? Ma che significa? E tutte quelle priorità dal voto ai sedicenni, la legge elettorale, i questionari mandati alle sue sedi per vedere cosa cambiare nel PD, non in Italia, nel PD, tutte le priorità di Letta, no? Le priorità di Letta, lo YouSoli e tante altre. I suoi stessi elettori dicono, ma che c'entra con i problemi del paese attuale? I problemi economici, sanitari, sociali, il lavoro. Ma le priorità di Letta che ci azzeccano? E poi tutti i giorni che deve dire qualcosa su Salvini, che se si sta dando il compitino perché vuole vincere le elezioni politiche, ponendosi come l'anti Salvini, l'antagonista in questo film della politica, l'elettore del PD è rimasto così, un po' così, con la faccia un po' così. Dice, ma allora perché non ci avete lasciato Zingaretti? Almeno quello parlava un po' come Giovanotti. Sei come la mia moto. Ecco, era meglio forse il caro Zingaretti che ricoletta. Ecco, perplessità peraltro evidenti anche senza sondaggi commissionati ad hoc. Basterebbe dare uno sguardo ai suoi social, insomma, per capire che cosa ne pensa il paese. Il sondaggio proprio poi in un momento che pare improvvisamente a favore del centro-destra, non senza alcune sorprese. intanto a poche ore dalla rinuncia della candidatura a sindaco di Gabriele Albertini e Salvini che rimprovera Giorgia Meloni per i troppi no sui candidati comuni e poi Giorgia Meloni risponde come i troppi no? Io veramente non ho mai detto neanche un no, solamente non ho detto niente perché dovevamo incontrarci, ho chiesto di incontrarci, non ho mai avuto nessuna risposta, quindi quali sono i no? Dice Giorgia Meloni. Ma Salvini dice Giorgia Meloni e i suoi troppi no sui candidati comuni. Intanto secondo Dago Spia il leader della Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia avrebbero ritrovato la quadra, forse anche perché si sono resi conto di essere con un piede quasi per star regalando la vittoria certa al centro-sinistra. A un cenno positivo della Meloni assicura Dago D'Agostino, Bertolaso a Roma e Albertini a Milano accetterebbero la candidatura. Bene, potrebbe esserci il cenno positivo di Giorgia Meloni a patto che prima di tutto devono suddividersi le candidature, dire ci sono queste grandi città, siamo tre partiti con queste percentuali, bisogna dare a ogni partito la possibilità di scegliere un candidato per una grande città. Non può essere che Meloni decida l'80% dei candidati lei, non può essere Berlusconi a decidere tutti i candidati, non può essere Salvini a decidere tutti i candidati, cioè in questa coalizione di centro-destra non ci può essere ormai uno che spadroneggia sugli altri o perlomeno non con queste percentuali. Con la Meloni al 19% e Salvini al 21% non può comandare né la Meloni né Salvini, quindi non ci può essere nessuno dei due che dice decido io, faccio io. No, si devono telefonare, mettere d'accordo per vedersi, dopo che si sono visti, decidono i candidati per le grandi città. Beh, in questo caso se per Roma e Milano la Meloni accettasse Bertolaso e Albertini che propone la Lega, in altre due grandi città dovrà decidere in autonomia Giorgia Meloni. Chi mettere? Napoli, Bologna. E poi c'è anche Silvio, anche a Silvio deve decidere qualche città, eh? Eh, povero Silvio, l'ha fatto per noi, anche lui deve decidere qualcosa, eh? Eh, mi volete mica immarginare il Silvio? Eh, Silvio, Silvio, ecco, insomma, no? Vi ricordate negli anni 90? Silvio, Silvio, anche Silvio deve decidere qualche città. Ecco perché Letta starebbe facendo di tutto per convincere Nicola Zingaretti a candidarsi a Roma. Si dice che a Roma ha la vittoria certa a Zingaretti, a meno che non si candidasse la Meloni, che vince sicuramente, ma la Meloni ha detto ma che? Che sindaco di Roma? Chi dice che io sia sindaco di Roma lo fanno per togliermi dalle scatole. Beh, intanto Zingaretti, come io immaginavo, non c'ha voglia. La cosa più più semplice. Zingaretti non accetta, non per chissà quello, non c'ha voglia, non ha voglia di fare il sindaco di Roma. Sta bene così com'è. Sta benissimo così com'è. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.